Musica Siamo qui davanti all'ACAM dove ci sono i lavoratori della Maris che hanno qualcosa da protestare, quali sono le motivazioni della vostra protesta? Questa mattina siamo a protestare contro ACAM perché alcuni settori della cooperativa Maris, contrariamente agli impegni che la cooperativa si era assunto lo scorso anno, continuano a percepire lo stipendio in ritardo oltre i termini previsti dal contratto nazionale di lavoro e questo dovuto all'insolvenza che Maris dice di avere che ACAM ha nei propri confronti che ammonta oltre 2 milioni di euro relativamente ai servizi che Maris eroga ad ACAM. Ecco quindi di conseguenza questa protesta è molto sentita anche perché si tratta di vita, di quotidiano? Certo, ognuno di noi protesta perché riceve lo stipendio in ritardo, in pratica la nostra cooperativa è in grande difficoltà perché ogni volta abbiamo il problema di ricevere lo stipendio perché l'ACAM non dà i soldi alla Maris, quindi noi siamo qua a protestare che almeno ci pagano questi debiti che devono dare alla nostra cooperativa che prendiamo i nostri soldi. Questa è una cosa cronica ormai, è cronica da anni che sta andando avanti, persone che prendono lo stipendio in ritardo di una settimana quando va bene, se no sono 15 giorni, 20 giorni, 25 giorni, la cosa è assurda. ACAM devono fare qualcosa per risolvere questo problema con queste insolvenze che hanno con la Maris, la Maris deve trovare una soluzione per risolvere il tutto perché questo è solo l'inizio. A me mi preme evidenziare una cosa che è odiosa, che è la discriminante fra i lavoratori stessi della Maris, perché c'è una parte di lavoratori, quelli più visibili, quelli che sono sulla strada o che possono dare un impatto anche all'utenza, vengono pagati quasi regolarmente, massimo con qualche giorno di ritardo, mentre invece questi che fanno un lavoro un po' più sommerso nei canaloni, questi invece subiscono e questa è una cosa che veramente ci dà fastidio. E come diceva Orlanducci, oggi è il primo passo, il prossimo mese, se non ci sarà la puntualità, porteremo qua anche altri settori e abbiamo avuto anche la solidarietà dei lavoratori che percepiscono lo stipendio in tempo, di venire anche loro qua a protestare. Credo che sia una protesta ben visibile quella.